Musica Musica Amici di Teleorte, buonasera e benvenuti. Appuntamento pre-natalizio con Tutto Sport insieme a Rosario Murro. Questa sera per chiudere l'anno sportivo abbiamo ritenuto opportuno invitare un personaggio che rappresenta il calcio nella nostra provincia, un personaggio con una grandissima esperienza non solo calcistica ma anche in altri settori che Ben sta facendo all'interno di questa delegazione, cioè la delegazione di Viterbo. Abbiamo con noi il signore Ermanno Todini, buonasera. Buonasera a lei. Grazie di aver accettato il nostro invito. Con molto piacere. Parliamo di calcio ma parliamo anche di calcio giovanile soprattutto perché è normale che all'interno di una delegazione si faccia di tutto affinché ci sia poi la possibilità per i giovani di avvicinarsi a questo nuovo sport. Ecco, secondo le ultime interviste che lei ha rilasciato si è definito un po' un vulcano in questa nuova sua esperienza. Perché? Perché il mio passato proviene da una società di calcio. Io sono stato per ben 27 anni in una società di calcio dove l'attenzione non era derivata solo al calcio giocato, ma il calcio giocato deve essere una cosa collaterale rispetto a quello come vedo io per esempio l'attività di base del calcio giovanile. Cioè i bambini, premesso che nessuna società di calcio ha Zico, Maratona, Totti, nessuno. Certamente. Quindi nelle nostre realtà di paesini diciamo così non eccessivamente grandi bisogna offrire loro anche tante alternative. E allora io organizzavo per esempio delle gite, portavo i bambini, li ho portati a Coverciano ad allenarsi sui campi dove si allena la nazionale. Abbiamo fatto l'affigliazione alla Roma e organizziamo almeno una volta al mese, ci facciamo invitare dalla Roma ad assistere alle partite di campionato e così tante altre cose. Questo è secondo me. Allora in virtù di quelle esperienze ho cercato di portarli in delegazione cercando di organizzare tantissime manifestazioni e vedo anche un ringraziamento particolare ai miei collaboratori. Un risultato lo avete senz'altro ottenuto. Ecco, che cosa lega Elmano Todini a Renzo Lucarini? Beh, diciamo innanzitutto ho tanto affetto perché Renzo Lucarini è il mio predecessore, è stato per tantissimi anni in delegazione e diciamo così che è stato un uomo che ha dato una svolta al calcio viterbese. Perché tante riforme che sono state fatte sono state fatte sotto la sua gestione. E io quindi ho dovuto prendere un testimone da lui che scottava. Importante. Importante, che scottava. E quindi diciamo così che devo dire anche che mi ha aiutato molto in tante cose. E quindi questo lo ringrazio, però è chiaro che io ho un'altra visione, la visione che mi proviene dalla mia esperienza come dicevo prima della società. Quindi diciamo così che è il mio maestro da quel punto di vista. E poi mi lascia tanta libertà, non è che è opprimente, ossessivo come potrebbe far pensare. Anzi, lui ci sentiamo spesso per telefono, ma devo dire che in delegazione difficilmente ci incontriamo. Secondo quello che lei sta raccontando, allora chi si può ottenere e si possono ottenere i massimi risultati in tutti i settori solo da personaggi che provengono da ogni settore specifico. Io sono d'accordo con lei, assolutamente. Faccio un confronto così veloce. Quando in Italia fu organizzato i mondiali nel 1990 abbiamo visto che poi gli stadi ricostruiti sono diventati cattedrali nel deserto. Solo perché c'erano dei personaggi che con il calcio non avevano nulla a che vedere. Io penso che sia questo un po' la praticità di un dirigente. Io penso di sì, perché secondo me l'esperienza è fondamentale in tutto, in qualsiasi cosa della vita, in qualsiasi settore. Anche la politica, vediamo oggi come oggi i paesi o regioni o province, lasciamo perdere la politica a livello nazionale, ma a livello provinciale e comunale. Oggi uno vince le elezioni, diventa assessore senza aver mai avuto esperienze di politica niente e poi succede quello che sta succedendo. Quindi secondo me, al mio modesto parere, l'esperienza è fondamentale. Un'infarinatura ci vuole, almeno per capire. Come no, è certamente. Ecco, comunque siamo all'inizio del suo mandato, ho avuto modo anche di parlare con dei colleghi di Viterbo e insomma mi hanno assolutamente confermato la sua grandissima buona volontà, soprattutto per migliorare il calcio giovanile. Ma bisogna ancora crescere però? Secondo me non si finisce mai di crescere, perché il grosso errore che può fare un individuo in qualsiasi settore è quello di sentirsi arrivato. Succede anche ai grandi professionisti, ai grandi giocatori della Serie A, nessuno è arrivato, non si finisce mai di imparare. Quindi io spero vivamente che il Presidente Zarelli che mi ha dato questo incarico insieme al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio ormai 18 mesi fa possa aiutarmi in questa crescita costante che ha avuto la delegazione. Direi che comunque non è che la crisi ci aiuta molto, perché stiamo passando dei momenti molto, quindi le società stanno affrontando dei problemi molto, molto, molto gravi. Senta, ci sono delle novità gradite, devo dire, a molte società della sua delegazione, novità che riguardano i play-off, a questa nuova formula della Coppa della Provincia. Le società sono entusiaste, è stato cambiato un po' qualcosa, perché poi questa Coppa della Provincia, spesso le squadre si presentavano anche decimate, 7, 8, 10 giocatori, insomma era un'anomalia. Sì, diciamo che la Coppa della Provincia di Viterba era relegata in mezzo ai campionati, quindi magari si doveva andare a giocare il mercoledì, da Faleria ad Acquapendente, e chiaramente la situazione era drammatica, perché con chi lavorava… Allora noi abbiamo cercato di portarla, questa competizione, a fine campionato, e dando la possibilità a tantissime squadre, tant'è vero che 8-10 squadre se la giocano, le prime 10 arrivate del campionato, le prime 12, insomma è una formula molto ampia che dà la possibilità a tutti di partecipare e quindi di vincere il trofeo, perché insomma uno vince il campionato e l'altro vince la Coppa. Quest'anno abbiamo avuto la finalissima di Coppa della Provincia di Viterbo, in terza categoria a Soriano nel Cimino, tra Arlenese di Arlena di Castri e Capranica, 600 spettatori. Non è poco. Uno spettacolo fantastico, 600 spettatori, tutto esaurito nello splendido impianto che è a Soriano nel Cimino, io sono innamorato di quel impianto. Bellissimo impianto, ne hanno già parlato, devo dire, questo è il fiore e l'occhiello forse della Provincia di Viterbo. Sì, diciamo che Soriano nel Cimino, Monterosi, Vignanello hanno delle strutture fantastiche, cosa che per esempio non ha Viterbo. Viterbo da questo punto di vista è molto latente, cioè esiste solo lo stadio della Palazzina, il Rocchi, che però pure lì è limitato perché avendo l'impianto in erba, il campo in erba, cioè la Viterbese stessa ha delle notevoli difficoltà. Ecco, proprio della Viterbese, vorrei aprire una parentesi, visto che l'ho occasione di averla qua in studio. Ecco, una Viterbese è insomma storica, una società di altissimo livello, ma gli ultimi periodi certamente non sono stati così, forse più di cronaca che di gioco di calcio giocato, vale a dire il Presidente Camiglio, queste dichiarazioni così pesanti contro il settore arbitrale. Allora, premetto una cosa, che ieri sera siamo stati ad una riunione con delle scuole calcio al Santuario del Divino Amore, il Presidente Zarelli ha fatto una messa e quindi ha riunito parecchie scuole calcio. E quando il sacerdote interrogava i bambini, i bambini gli chiedeva chi vorresti diventare? Chi vorresti diventare? Allora Totti, Del Piero, eccetera, eccetera. Nessuno ha detto un grande arbitro. Ecco. Vorrei diventare un grande arbitro. Questa purtroppo, come dicevamo prima che iniziassimo la trasmissione, non c'è la cultura dell'arbitro. E questo è un grosso peccato, perché noi abbiamo la classe arbitrale più brava del mondo. Più brava del mondo, solo che in Italia però la colpa, quando si perde, la colpa è sempre dell'arbitro. E invece no, l'arbitro va aiutato, perché se sbaglia un calciatore davanti alla porta, viene una pacca sulla spalla dal compagno, dall'allenatore che lo incita, forza e coraggio, non è successo niente. Quando sbaglia l'arbitro e se ne rende conto, quando sbaglia. Certamente. Nessuno che gli dà una pacca sulle spalle gli dice forza e coraggio e quindi capisco l'intervento del presidente Camilli, che è un grande appassionato di calcio. Io ricordo altri grandi personaggi del mondo del calcio, come Presidente Costantino Rozzi dell'Ascoli e tutti questi che hanno fatto veramente la storia. Gauci. Che poi è legato anche un po' alla Viterbese. Sì, e come no, Gauci è stato il padrone per la Viterbese. Io direi che il Presidente si è preso una patata bollente gestendo la Viterbese, perché la Viterbese è stato sempre, da sempre, un problema. È una società certamente che avrebbe il condizionale dobbrico, il diritto di partecipare a un campionato di categoria superiore, assolutamente. Speriamo e glielo auguriamo. Ma io penso che con tutta questa gestione sono convinto che avrà delle grossissime soddisfazioni. Certo. Passato questo primo anno di assestamento, perché? Indubbiamente ci vuole un po' di pazienza, con degli investimenti anche appropriati. I colori giallo-blu sventoleranno in altissimi campionati. Beh, io sono veramente, perché tanto, nel senso, la Viterbese fa parte un po' della storia calcistica italiana. Ci sono stati dei grandissimi giocatori e anche i bravissimi allenatori. E speriamo che ritorni veramente ad altissimi livelli. Questo per formare, che cosa? Anche un settore giovanile di una certa importanza, che possa garantire ai ragazzi, appunto, che sono indirizzati verso il gioco del calcio, anche una società che li segua attentamente. Non so se abbiamo adesso l'ospite al telefono, oppure li mandiamo dopo. Benissimo. Allora, possiamo al limite chiedere, facciamo un'altra domanda al nostro ospite, si scusi dai, possiamo così parlare anche di queste 160 squadre che sono iscritte all'attività di base in una Viterbo viva, sotto l'aspetto calcistico. Sì, sì, senza dubbio. Viterbo, da questo punto di vista, è una provincia fresca che riesce ogni anno a rinnovarsi con enormi sacrifici da parte di tutti i presidenti, di tantissimi collaboratori che fanno parte delle società. Non bisogna dimenticarlo che sono tutte persone che lo fanno a titolo gratuito. E questo, diciamo, è un bacino importantissimo quello di queste persone. E non bisogna perderseli per strada. Invece, purtroppo, non è che vengono aiutate molto da questo punto di vista. Senta, questo riguarda anche un po' la didattica, no? Molte federazioni, così, negli ultimi anni sono entrate all'interno delle scuole proponendo nuove discipline sportive che i giovani spesso abbracciano con entusiasmo, anche se il calcio, insomma, la fa un po' da padrona. Ecco, voi come delegazione avete senz'altro un progetto o lo state preparando affinché si possa entrare anche all'interno degli istituti scolastici, ma non per insegnare calcio, per insegnare un po' il modo comportamentale, perché questo, secondo me, è alla base di tutte le discipline sportive. Io devo dire che, purtroppo, se il bacino degli istruttori, dei collaboratori è da non perdere, però bisognerebbe che anche loro si tessero una calmata in determinati atteggiamenti. Per quanto riguarda la scuola, invece, devo dire, purtroppo, che il calcio non è molto ben visto da parte delle scuole stesse, perché il calcio è il solito sport dei ricchi, è il solito sport che, purtroppo, ha tutto e quindi non ha bisogno di nulla, invece non è così. Il calcio, secondo me, invece, potrebbe essere un grande veicolo per portarla ad altri sport. Infatti parlavamo anche di sport emergenti, mi scusi se l'interrompo, ma che riguardano la sua delegazione, cioè il calcio a 5. Sì, noi stiamo... E' in continua crescita. Come no, noi stiamo facendo un grande lavoro sul calcio a 5. Devo dire che, da questo punto di vista, il calcio a 5 era un po', come dire, non aveva grossi sbocchi, perché, per esempio, il calendario delle gare è troppo spezzettato, si gioca di venerdì sera in orari assurdi, venerdì sera alle 21, magari le società devono fare 70 km, andare 70 km a venire di venerdì sera d'inverno. Io, abbiamo tanti progetti, qualcuno è partito, abbiamo, per esempio, una pagina sui social network che curiamo, non viene curata direttamente da noi perché non lo possiamo fare, però, insomma, diamo assistenza con degli articoli che forniamo, sul sito della federazione del Comitato Regionale Lazio, crl.org, mandiamo degli articoli in continuazione, però il prossimo anno, lo dico già da adesso, dobbiamo partire perché le partite dovranno giocarsi tutte alla stessa ora. Dobbiamo scegliere un giorno, venerdì sera o sabato pomeriggio. Io vado per il sabato pomeriggio perché, secondo me, il venerdì sera c'è veramente... Anche per la questione di presenza... Siamo proprio fuori. Siamo indubbiamente. Ma chi va a vedere una partita di venerdì sera alle 21, che ne so, a Celleno oppure... Beh, diventa molto improbabile. Sì, sì, sì. Ecco, direi di fermarci un attimo con il nostro ospite e quindi chiedo alla regia di preparare le schermate cosiddette di quello che è accaduto la settimana scorsa, cioè domenica, per quanto concerne lo sport ortano. Partiamo dal calcio a 5, undicesima giornata giocata il 14 dicembre 2013. I risultati, Agusta batte Odissea 2000 Rossano 4 a 3, Fonte Lucera batte Catania Calcio a 5, 7 a 4, la Rapido Latina ha battuto l'Eraclea Libertas 6 a 0, la Cascina Orte ha battuto la Salinis 7 a 1, Roma Torrino ha battuto il Potenza 4 a 3 ed infine la Cireale che ha vinto in casa della Aesernia. A 6 a 4 riposava la capolista Pasta Pirro Corigliano. La classifica in testa, la Pasta Pirro rimane a 27 punti, la coppiata Latina e Cascina Orte 25, Fuente Lucera 18, Salinis 17, Aesernia 14, Acireale 13, Odissea 2000 Rossano 12, la Futsal Potenza 10, poi Catania Calcio a 5, Libertas Eraclea 9, Agusta 7, chiude la Roma Torrino Futsal 6 punti. La prossima giornata, il dodicesimo turno, si giocherà il 21 dicembre, ecco il calendario, Acireale Agusta, Fuente Lucera Libertas, Potenza la Cascina Orte, Odissea 2000 Rossano, Passapirro Corigliano, Salinis Rapido Latina ed infine Calcio a 5, Catania Aesernia riposa la Roma Torrino. E dal Calcio a 5 passiamo al campionato pallavolo serie B2 girone E, ecco i risultati con la Videx che ha battuto la pallavolo Chieti 3 a 0, la Roma Volley ha battuto la Volley Perugia 3 a 0, Bambagioni Neotip Ancona 3 a 0, la Civitanova ha battuto l'Interporto Orte purtroppo per 3 a 1, la Villas Chiusi Siena ha battuto la Roma Volley 3 a 0, la Gada Group Pescara batte Gerardi Carto Edit Perugia 3 a 1, ed infine la vittoria della Monini Spoleto Perugia contro l'Arca Cus Pisa con il risultato di 3 a 0. Vediamo anche la classifica per quanto concerne questa serie B2, girone E, campionato Volley, in testa la Videx e la Bambagioni con 26 punti, la coppiata Villas Chiusi Siena e Roma Volley 18, Monini Spoleto 16 insieme alla Roma 7 Volley, poi troviamo l'Arca Cus Pisa e la Gada Group Pescara 3 a 13 insieme all'Ancona, poi andiamo ancora più indietro con la Volley Civitanova 10 punti, Interporto 9, Grifo Volley Perugia 8, la Pallavolo Chieti 2 chiude la Gherardi Carto Edit con un solo punto, la decima giornata si giocherà il 21 dicembre, ecco il calendario con la Videx Grotta Zola, Polisportiva Roma 7 Volley, la Grifo Volley Perugia incontrerà la Villas Chiusi Siena, Neoti Pancona, Gada Group Pescara 3, Teat Pallavolo Chieti, Volley 7 Civitanova, Gherardi Carto Edit Perugia, Roma Volley, Interporto Orte, Monini Spoleto, un derby Umbro Laziale, l'Arca Cus Pisa, Bambagioni Grosseto. Ricordo che la gara comunque dell'Interporto Orte sarà giocata il 22 dicembre, non il 21 alle ore 17.30. E chiudiamo con il calcio, calcio, vale a dire, regionale, dilettantistico con il campionato regionale seconda categoria, girone A, dodicesima giornata. I risultati, Bomarzo, Quercia Iola 1 a 1, Nuova Bagnaia batte Nuova Ortana 3 a 1, a Pescia, a Vetralla batte Pescia Romana 3 a 0, Onano Sport batte Arlenese 3 a 1, a Montefiescone Tarkna 2007 batte Montefiescone 2 a 0, Sporting Bagnoreggio, Doc Gallese 1 a 1, ad Acquapendente Bolsena batte Acquapendente 1 a 0, a Pilastro Tuscania, la capolista ha battuto la Virtus Pilastro per 3 a 0. La classifica in testa, la Tuscania 32, poi troviamo la Nuova Bagnaia 28, Vetralla 25, Doc Gallese 21, Virtus Pilastro 19, la copiata Onano Sport, Acquapendente 18, Quercia Iola, Bomarzo, Arlenese 17, Sporting Bagnoreggio 13, Tarknan punti 11, Bolsena 10, Nuova Ortana insieme al Bolsena 10 punti, poi Real Montefiescone 7, e chiude il Pescia Romana con un solo punto. La tredicesima giornata, il 22 dicembre, ecco il calendario, Nuova Ortana, Acquapendente, Arlenese, Sporting Bagnoreggio, Bolsena Bomarzo, Doc Gallese, Nuova Bagnaia, Onano Sport, Pescia Romana, Quercia Iola, Real Montefiescone, Tarknan 2007, Virtus Pilastro, e Tuscania, Vetralla. Bene, insomma, l'ospite che abbiamo al telefono, per chiudere questa stagione agonistica, calcistica, di atletica leggera, un uomo di sport, un grande uomo di sport, già ospite nei nostri studi, abbiamo il dottor Paolo Borea, buonasera dottore. Buonasera, buonasera a voi. Grazie di aver accettato il nostro invito, chiedo alla regia se gentilmente mi può mettere l'audio in studio. Perfetto. Dottore, abbiamo con noi stasera, per chiudere la stagione agonistica 2013, il delegato della FIGICI di Viterbo, Ermanno Todini, che la saluta. E io saluto lui, anche se per telefono va bene lo stesso. Perfetto. Saluto, gli faccio gli auguri di buon Natale. Dottore, stiamo parlando di calcio, ma di calcio giovanile soprattutto. Ecco, poi volevo chiedere a lei, insomma, le sue sensazioni di come sta andando questo settore giovanile di calcio italiano. Ma insomma, diciamo che come sempre ci sono società che privilegiano i settori giovanili, faccio gli esempi dell'Atalanta, in primis, ma di tante altre società e altre che invece, soprattutto, tanti club pensano preferiscono trovarsi i giocatori già pronti e non costruirli in casa, perché costruirli in casa comporta dei tempi lunghi e le grandi squadre spesso e volentieri non hanno la pazienza di aspettare. Però, comprensivamente, mi pare che a livello giovanile insomma, i settori giovanili vadano bene, vadano bene anche le nazionali giovanili, anche se sono molto d'accordo del fatto che se non si è allenatori di Parma o Milan, provenienti da Parma o Milan, non si va a fare allenatori nazionali. Mi sembra, mi sembra, insomma, hai capito, un giardino sempre uguale. Sempre uguale. Mi chiedo perché gli allenatori, se non vengono da ex giocatori di Milan o Parma, non fanno gli allenatori delle nazionali giovanili. Il delegato della FIGC Erbano Todini se vuole porre una domanda al Dottor Borea, visto che lei ha iniziato nel mese di maggio 2000 esatto, quindi stiamo agli inizi di questa sua esperienza. Prego. Io vorrei chiederle la differenza tra il calcio giovanile dilettantistico e quello professionistico. Insomma, diciamo così, io credo che è molto importante e dopo posso dire anche un'esperienza personale, sia il discorso degli istruttori, cioè le grandi società, le società di serie A hanno le possibilità e i mezzi di dotare i settori giovanili di istruttori di un determinato livello e quindi di una parallele costosità. A livello dilettantistico è più difficile, insomma, devi fare con quello che magari ti offre la zona in cui operi, gli allenatori prendi chi trovi e li paghi come li puoi pagare, quindi il livello per forza di cose è inferiore. Insomma, io ho un nipotino che gioca nelle giovanili, cioè giovanili, i pulcini, i pulcini del Modena, insomma, vedo rispetto alle squadre che andiamo ad incontrare un diverso modo di condurre le cose, ha capito? Ci sono degli allenatori di un certo tipo, l'appressatura, gli impianti e tutte queste cose e che io penso che la differenza sia come purtroppo è sempre nei mezzi a disposizione. Dottor Borea, Ermano Todini, prima abbiamo parlato della didattica cosiddetta calcistica da portare all'interno di istituti scolastici, lo sport del calcio è visto così negli ultimi anni un po' così, in un modo particolare. Lei ritiene che comunque si possa arrivare ad avere uno zoccolo duro importante per trasmettere un messaggio ai giovani che il calcio non è solo violenza certamente, non è solo ultra? Senz'altro, io ho sempre pensato che la scuola e la famiglia siano i maestri o maestre della vita e quindi dalla scuola si dovrebbe partire cioè fare i campionati scolastici, insegnare calcio e soprattutto educazione sportiva perché poi dopo i bimbi di oggi diventeranno gli adulti e il domani nasceranno con dei valori perché chi fa dello sport chi fa dello sport è sano sempre sano chi non fa niente dalla mattina alla sera poi traduce le sue manifestazioni in violenza e quelle cose che purtroppo vediamo tutte le domeniche tifosi che costringono i giocatori a togliersi la maglia perché non ne sono degni delle cose che sono lontane veramente dallo sport e da quello che è la mia mentalità la scuola può essere importante guardate in Francia per esempio sul discorso del tennis fin da piccolini la federazione francese di tennis regala le racchettine evidentemente a parte il regalo della racchettina metterà poi in condizione questi bambini di poter svolgere l'attività e non per niente la Francia non sono i primi 20 giocatori del mondo ne deve avere 7-8 e così si parte da lì si parte da lì in Italia si improvvisa sempre molto è difficile avere un'organizzazione che ci vuole passione ci vogliono idee ma ci vuole passione e credere in queste cose ecco due gioielli della sua carriera da dirigente da grande dirigente perché io ho avuto l'opportunità e il piacere anzi di conoscere quando era alla Ternana però devo dire noi abbiamo vissuto una bellissima epoca cosiddetta calcista con la sua Sampdoria ecco chi è più bravo da allenatore Viaglio o Mancini? io penso che i fatti i fatti dicono Mancini Mancini era più bravo anche come giocatore parlo di qualità qualità di giocatore Mancini è uno che privilegia il gioco privilegia la qualità è un vincente nato non che Viagli non lo sia ma Viagli è più uno che fra virgolette furbo attacca bene il cappello lui ha trovato un ruolo di commentatore rischi non ne corre giudizi sempre equilibrati una botta qua una botta là Mancini è diverso Mancini è molto di cuore e quindi le persone come lui evidentemente rischiano molto sulla propria pelle però come allenatore ha dimostrato ovunque di essere fortissimo perché l'ultima vittoria della Fiorentina è con Mancini all'Alasio con Mancini è riuscito a eliminare la Juventus da Coppa dei Campioni avrà avuto anche un pizzico di fortuna però chi l'avrebbe mai detto ha vinto al Manchester che erano 40 anni che non vincevano quindi io penso che Mancini veramente sia fra i top nel mondo Vialli ha scelto un'altra strada l'ultima domanda dottore poi la lascio perché l'abbiamo presa a volo lei è sempre disponibile un grande gentleman devo dire ma ci mancherebbe ci mancherebbe ci leggo una bella amicizia ci leggo una bella amicizia e non ha mancata promozione per pochissimo dobbiamo ringraziare un arbitro io non ho mai nella mia vita mai criticato un arbitro ma quella volta lì il signor Farina la fece grossa guardi che ultimamente ultimamente ha arbitrato in provincia di Perugia una decina di giorni fa una partita un match tra giornalisti e magistrati se non erro ancora arbitra purtroppo quindi speriamo che non abbia danneggiato niente nessuno mi toglierà mai dalla testa che era stabilito che doveva andare sul Torino perché quel che ha fatto in quella partita non lo può fare un arbitro neanche debole infatti ecco l'ultima domanda riguarda un po' quello che rimane di un mondo del calcio ma non solo lei è ancora in piena attività io lo so lo so che lei ha sempre il calcio nel cuore però insomma di quello che è stata la storia di Paolo Borea con la Sampdoria quella bellissima formazione blucerchiata che cosa rimane a Paolo Borea e che cosa hanno fatto i cosiddetti giocatori da Sampdoria per Paolo Borea si ricordano di lei la chiamano la telefono ma vede quella è stata più che un'avventura io ho sempre detto che è stata una favola meravigliosa perché dal presidente al sottoscritto i giocatori l'allenatore la segreteria i magazzini e cioè tutti eravamo davvero sono quelle frasi fatte che delle volte si dicono ma la verità vera era che eravamo una famiglia ognuno era felice di vincere non per se stesso sì anche per se stesso ma per gli altri era un ambiente particolare credo che oggi sia molto difficile ricreare situazioni situazioni di questo tipo e quindi è stata una favola che abbiamo vissuto e io con i giocatori di allora con molti di allora Pagliuca poi manchi di altre di epoche precedenti e successive Chiesa lasciamo stare Mancini evidentemente Tonino Cereso Pari tutti questi giocatori o Luciari che era il portiere di riserva che è forse uno dei miei più grandi amici che io considero come un figlio e il rapporto è rimasto sempre insomma siamo sempre legati molto legati l'uno all'altro era probabilmente un calcio un pizzico cioè diverso adesso c'è l'invasione dei procuratori di tutte queste cose qui che io sono figure che mi rendo conto che ci devono essere che quindi prendo atto di ciò però è diventato troppo solo denaro allora Viali si permise di rifiutare un Milan e noi non avevamo ancora vinto niente Viali disse a Gagliani nella riunione finale dove voleva convincerlo vieni al Milan gli rispose noi siamo più forti di voi e vi batteremo e quando apro le finestre alla mattina io le apro sul mare per dire oggi una cosa del genere non esiste e arriva il Milan che ti offre il doppio di quello che prendi e dici ciao e vado via ecco per esempio questo però se mi permette salvo che lei non mi voglia chiedere qualcosa scusate vorrei salutare la città di Terni e i tifosi ternani io li ho sempre 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 nel mio cuore e questo lo sappiamo perché lei ha lasciato il delegato del Manno Todini annuisce quindi lo sa e capisce l'amore che ha potuto così distribuire il dottor Paolo Borea alla città di Terni perché è veramente a livello organizzativo quell'anno è stato qualcosa diciamo come la Sampdoria no ma quasi però era un organizzativo l'ho detto guardi moralmente dentro di me non l'ho mai pensata come una sconfitta quell'anno perché poi eravamo partiti per far bene ma non è che pensavamo andiamo in A non andiamo in A ma l'ho sempre considerata come una vittoria cioè nel senso che se in quella partita ci dava quel che ci dava e non ci toglieva quel che ci ha tolto noi alla fine ce l'avremmo fatta perché giocavamo bene eravamo brillanti e si era creato un ambiente veramente anche lì molto legato molto amici molto familiare e con i tifosi poi non ne parliamo perché se lei ricorda e mi scusi la logorrea mi ricordo le serate col Genova col Cadere col Torino 15 mila persone 15 mila 15 mila 15 mila tutta la città era con noi purtroppo è andata così era un sogno che volevo regalare ai terniani non ce l'ho fatta per poco però beh però insomma ci è mancato poco e sappiamo i motivi perché non siamo non è andata in porto io ricordo brevemente in tribuna stampa al Marassi quando vincemmo con la Sampdoria con la doppietta di Mario Fricchi il presidente Agarini insomma la gioia di questo di questo industriale venuto così dall'acciaio che aveva abbracciato il mondo del calcio e a noi della stampa ricordo al novantesimo al fischio finale abbracciato tutti i giornalisti era una gioia immensa perché non vincevamo a Genova la Santa Tarnana mi sembra non aveva mai vinto a Genova contro la Santa Tarnana proprio di no ecco allora per chiudere io volevo insomma lei dottor Boria abbiamo il Ermano Todini che è il delegato della FIGC di Viterbo un augurio a questo a questo incarico perché sta facendo delle cose molto molto egregie quindi se lei poi avremo modo di sentirci dopo le fisità natalizie gli racconterò come va Ottodini con la FIGC un augurio da parte sua gli faccio gli faccio tanti auguri con tutto il cuore perché non è un compito facile perché è difficile gestire tante società ognuna ha i propri problemi e quindi ci vogliono grandi doti di diplomacia e di equilibrio e tanta passione tanta passione tanti auguri davvero di cuore grazie direttore grazie allora dottor Boria buon Natale buon Natale a lei a tutti voi grazie dottor Boria in bocca al lupo ci baccherebbe ci baccherebbe buona serata buona sera a crederci ecco insomma abbiamo così rotto il ghiaccio abbiamo anche gli auguri di un dirigente importante del calcio italiano sì perché ascoltare dalla viva voce di questi personaggi che hanno scritto la storia del mondo del calcio perché insomma parlare della grande Sampdoria è stata un'avventura come ha detto lui una favola e credo che sia una cosa importantissima cioè avere gestito tanti campioni e l'ha detti lui non è stato semplice credo quindi credo ha detto tanta passione tanta gioia è quello che cercherò io nel mio piccolo di trasferire alle società anche se stiamo passando veramente un momentaggio però sempre insomma un calcio per divertirsi soprattutto no? senza esasperazione l'esasperazione purtroppo è quotidiana la viviamo giornalmente quotidianamente la trasferiamo poi il sabato e la domenica sui campi io vorrei fare un appello ai genitori dei bambini che hanno appunto i loro figli nelle scuole calcio di essere troppo di essere meno oppressivi nei loro confronti perché veramente tante volte vedo delle scene sui campi vergognose da parte dei genitori stessi infatti mi ha tolto proprio la domanda di bocca volevo proprio dire che forse i corsi cosiddetti propedeutici calcistici andrebbero fatti anche ai genitori perché spesso e volentieri mi sono trovato anche io in dei campetti di periferia dove i genitori invitavano il figlio a scalciare l'avversario a fargli male cioè questo non deve accadere perché uno sport deve essere leale sotto l'aspetto sportivo e basta non ci deve essere competizione né cattiveria poi d'altronde si può anche essere la persona insomma che commette qualcosa che non deve fare però d'altronde le mele marce esistono un po' dappertutto purtroppo sì ecco progettualità cosiddetta di quello che è stato fatto l'abbiamo detto si chiude un anno siamo quasi in chiusura del nostro incontro però avremo modo insomma di averla con noi anche in altre occasioni se ne accetta per portarci delle altre novità ecco progettualità 2014 ecco quello che più o meno bolle in pentola adesso stiamo cercando di adesso ce n'è una sotto Natale insieme in collaborazione con il CONI abbiamo fatto la festa dei bambini cercheremo effetto Natale si chiama sì sarà il 23 di dicembre ci sarà la messa al Duomo di Viterbo alle 15 e 30 dopodiché ci trasfereremo tutti in piazza del Plebiscito dove ci sarà una sorta di giochi di festa organizzata dal CONI poi abbiamo tantissime altre iniziative che cercheremo pian piano di portare a termine sperando poi di confermare quello Strada Calciando che ha avuto un grandissimo successo lo scorso anno in piazza del Comune a Viterbo e poi avremo anche la Coppa della Provincia avremo tantissime altre iniziative che poi piano piano cerchiamo di portare avanti ecco io la invito già così ufficialmente proprio da questi da questo teleschermo a inviarci dei comunicati stampa alla nostra redazione anche perché nel nostro piccolo locale noi cerchiamo sempre di andare un po' dappertutto e conoscere le novità purtroppo le brutte notizie dottor Todini arrivano dal mondo del calcio perché le notizie dell'altro giorno parlano di questo calcio scommesse che è venuto a galla di nuovo e ci sono anche dei nomi abbastanza altisonanti del calcio nazionale si parla di Gattuso e Brocchi coinvolti in questa vicenda anche l'abitazione di Gattuso a Gallarate è stata perquisita minuziosamente però adesso è tutto in embrione ci sono già dichiarazioni per quanto concerne l'ex giocatore del Milan che si è dichiarato estraneo a questa vicenda così anche l'ex giocatore della Lazio e del Milan Brocchi i quali hanno dichiarato di essere estranei a questa vicenda ma non solo Gattuso e Brocchi sono coinvolti si parla anche di Bombardini Colucci Danna e Bellucci questo nella vicenda di tutto quello che poi accade nei confronti di Beppe Signori quindi c'è uno strascico però fatto strano sempre sotto le festività natalizie arrivano queste bruttissime notizie speriamo che comunque vengano risolte insomma ci sia una io dico che bisogna andarci coi piatti di piombo prima di sparare sentenze perché purtroppo anche nella vita stessa vediamo tante volte sbattere il mostro in prima pagina è sempre una cosa bruttissima bruttissima per chi le subisce e anche poi perché insomma non è la persona stessa ci sono tanti familiari genitori magari ecco purtroppo viviamo in un mondo dove i medi hanno una fame mi trova d'accordo su questo quindi direi che di andarci piano poi certamente ma noi se sono colpevoli bisogna indubbiamente indubbiamente bene siamo in chiusura abbiamo così siamo andati forse anche oltre il tempo stabilito ma d'altronde è la prima volta che il dottore Germano Tutini è qui con noi ed è stato un piacere perché abbiamo fatto un po' un po' il punto della situazione su questa delegazione di Viterbo io le faccio gli auguri al nome di tutta la nostra delegazione a lei a tutta la sua cosiddetta staff di lavoro che cosa dire in bocca al lupo forza Germano Tutini grazie grazie ringrazio lei dell'invito ringrazio tutti gli ascoltatori e anche la stessa emittente quando avrete voglia di invitarmi verrò molto volentieri cercheremo di allargare anche magari portando qualche altra persona che collabora con me come delegato del settore giovanile dell'attività di base il delegato del calcio a 5 e quindi quando vorrete noi abbiamo una bella squadra di calcio a 5 comunque in a 2 come no quindi col presidente Massimo Brugnoletti che insomma è terzo in classifica come ha potuto notare prima li posava la capolista la pasta pirro però adesso è terzo in classifica a 25 punti quindi un a 2 molto molto importante è importantissimo bene grazie Ermano Todini della tua partecipazione da Rosario Muro noi ci fermeremo perché le festività natalizie sono arrivate quindi riprenderemo a metà gennaio il nostro percorso di A Tutto Sport vi faccio veramente un mondo di auguri bastano solo gli auguri senza andare oltre e arrivederci all'anno nuovo buona serata grazie a tutti